Il mercato finanziario è il contributo che può dare allo sviluppo del settore agroalimentare. E' stato questo il senso dell'ultimo evento organizzato da Borsa Italiana. I primi a intervenire il commissario unico a Expo Giuseppe Sala e il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina, che ha ricordato l'importanza della collaborazione tra agroalimentare e finanza. Assolutamente cruciale. Noi dobbiamo fare un salto di qualità nell'utilizzo di alcuni strumenti anche finanziari, capire che il mondo ormai si è accorciato e che abbiamo bisogno proprio di innovare il rapporto tra sistema degli investimenti, del credito, della finanza e mondo agroalimentare italiano. Credo che ci siano alcune piste di lavoro molto interessanti. La giornata di oggi ce ne indicherà alcune molto importanti. Penso veramente che questo possa essere un punto di partenza per lavorare e strutturare sempre meglio questa intesa e questa capacità. L'obiettivo di questa giornata era riflettere e ragionare sulle possibili interazioni tra imprese e mercato dei capitali. Il problema del settore agroalimentare è un settore fatto per la stragrande maggioranza di piccole e medie imprese, quindi che hanno ovviamente un accesso più complicato al mercato finanziario. Quindi io credo che la chiave sia nel fatto che l'accesso a quelli che sono gli strumenti finanziari classici che usano tutti i settori sia in qualche modo mediato. L'agroalimentare vale quasi il 9% del PIL italiano, ma per crescere ed essere competitivo deve innovarsi. La finanza può essere uno strumento. Le commodity agricole, così come tutte le commodity, ma in particolare le commodity agricole, sono particolarmente volatili. La volatilità di prezzo è un problema per tutti gli attori della filiera che se non gestita crea il rigidimento nell'ambito della filiera con aumenti dei margini richiesti dagli operatori per cautelarsi dal rischio di volatilità. Le innovazioni che noi portiamo grazie all'esistenza di strumenti liquidi sui mercati finanziari elimina questo problema e crea del valore che già gli agricoltori americani e gli agricoltori francesi hanno a disposizione da anni e noi come Consorzio Agrario ci stiamo preoccupando di portare questa innovazione per gli agricoltori italiani. Tra gli strumenti già operativi il mercato Agrex e la piattaforma Elite, il progetto europeo di borsa italiana per le piccole e medie imprese.